Un film documentario per raccontare il dramma di chi rimane invischiato nel vortice del gioco d'azzardo. E' questo lo scopo di Vivere alla Grande, il docufilm di Fabio Leli presentato al Milano Film Festival e al Festival di Locarno che sarà proiettato venerdì 1 aprile al Teatro Fava di Modugno. Il regista sarà presente alla proiezione in programma alle 20 per rispondere alle domande sul film e alle curiosità del pubblico su un tema come quello del gioco d'azzardo legalizzato che sta modificando le abitudini e il modo di vivere di tanti cittadini italiani. Grazie al successo di pubblico e critica il lavoro è stato proiettato già in tutta Italia compreso Trentino, Marche, Veneto, Campania, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia per tornare proprio in Puglia. L'evento realizzato grazie all'impegno e all'interesse degli attivisti del blog modugno5stelle.it e all'associazione culturale Paideia con il patrocinio del Comune di Modugno intende analizzare e documentare attraverso questo film la piaga sociale del gioco d'azzardo evidenziando il disfacimento progressivo della scala valoriale che comporta e lanciando accuse precise anche alle responsabilità della classe politica. L'ingresso alla proiezione è aperto alla cittadinanza ed è gratuito previa prenotazione.